Il coraggio che mi ha dato Freda Non dipingeva istintivamente di getto Ha mostrato una donna nuda non come un oggetto sensualizzato ma come il soggetto della sua storia Non ho mai seguito una scuola o l'influenza di qualcuno Non mi aspetto nulla dalla mia opera Tranne la soddisfazione che trago nell'esprimere ciò che altrimenti non potrei dire a parole Frida Kahlo Il 22, 23 e 24 novembre solo al cinema